Martino era nato in una notte di nebbia fitta. Il piccolo lupo alzò la testa senza capire dove finisse il suo musino e dove iniziasse il cielo. Mamma lupa strinse a sé il suo cucciolo. Nonostante la nebbia si rivolse alla luna. Lei non aveva bisogno di vedere il cielo per sapere che la luna era splendida. La mattina seguente il sole si portò via la nebbia. I lupi del branco accolsero Martino con un lungo ululato come solo i veri lupi sapevano fare. Martino alzò la testa ma il suo sguardo non andò oltre i rami di un ciliegio selvatico. Il suo cuore prese velocità incantato da quelle luccicanti palline rosse. Martino non guardò mai il cielo ma nessuno se ne accorse. Mamma lupa aspettava con gioia il primo ululato di Martino. Arriverà da solo disse il capobranco perché tutti i lupi hanno l'ululato in bocca come negli occhi hanno la luna. Ma Martino restò in silenzio a lungo. Poi emise due piccoli versetti piccoli come le due ciliegie che gli erano cadute sul muso. Martino i lupi ululono alla luna gli sussurrò la mamma con delicatezza. Ma il cucciolo sembrò non udire quelle parole. Semplicemente fissò le ciliegie prima di farle cadere sulla lingua. Il loro sapore gli esplose in bocca. Martino raccolse altre due ciliegie, le depose sul muso e le fissò a lungo in silenzio. gridò forte una sola volta come fosse stato colpito da un fulmine quando una farfalla sfiorò la sua coda. I giorni e le notti si rincorrevano come piccoli lupi che giocano a prendersi. Solo per Martino il tempo sembrava essersi fermato sotto il ciliegio. Cosa sei? Un'oca? Ridacchiarono da lontano gli altri cuccioli facendo una smorfia al solo pensiero di assaggiare quei frutti. Ma nessuno osava avvicinarsi perché quando Martino urlava alle farfalle un po' di paura la faceva anche ai lupi. Martino non ulula alla luna affermò serio il capobranco. Non sarà mai un vero lupo concluse fissando la mamma di Martino. Mamma lupa cercò lo sguardo degli altri che abbassarono la testa allontanandosi dal ciliegio selvatico. E così il piccolo lupo e la sua mamma restarono soli finché la nebbia di una nuova sera li fece sparire del tutto. Ma non tutto sparisce nella nebbia. Ad esempio gli odori starnazzò un'oca fiutando un pericolo che si stava avvicinando. Infatti la nebbia nasconde le cose solo a chi non ha fantasia. E quell'oca di immaginazione ne aveva parecchia. Talmente tanta che già si immaginava il muso umido e scuro della volpe che sarebbe sbucato dalla nebbia. L'oca fuggì da quel luogo portandosi dietro tutta la sua paura. La mattina seguente l'oca stava ancora correndo quando vide sbucare qualcosa di umido e scuro da dietro un tronco. Quello non era di certo un becco pensò il pennuto con la tremarella nelle zampe. Sei una volpe? Balbettò l'oca. No sono un lupo. I lupi mangiano le oche? No mangiano le ciliegie. L'oca fece un sospiro di sollievo. Anche a lei piacevano le ciliegie. L'oca osservò il piccolo lupo. Lo osservò bene andando ben oltre le due ciliegie che aveva sul muso. In effetti assomigliava un po' alla volpe e aveva denti aguzzi ma non gli aveva fatto del male. L'oca e martino erano molto diversi ma rimasero uno accanto all'altra come due piccole ciliegie. arrivò la sera e con il buio arrivò davvero la volpe. L'oca poteva fuggire lontano come faceva sempre oppure nascondersi perché sotto quel ciliegio si trovava bene. Mi travestirò da lupo decise l'oca convinta di aver avuto un colpo di genio. Senza pensarci due volte si mise qualche sassolino in bocca per imitare i denti di martino poi si mise due ciliegie sul becco per assomigliare a un vero lupo. Attenta sono un lupo disse l'oca mostrando le ciliegie che aveva sul becco. La volpe si rotolò a terra spanciandosi dalle risate. Quella era proprio un'oca di nome e di fatto. Poi vide altre due ciliegie avanzare decise verso di lei ma allo sguardo della volpe non andò oltre quei piccoli frutti. Ed ecco un'altra oca sghignazzò la volpe leccandosi i baffi. Attenta lui è un vero lupo affermò una voce alle loro spalle. Era la mamma di martino. Il cucciolo le sorrise poi guardò la volpe negli occhi perché aveva ancora un'amica da salvare. Fece un piccolo ululato mostrando le ciliegie ma anche i suoi dentini. La volpe drizzò le orecchie poi scappò a gambe levate perché solo i veri lupi sanno ululare in quel modo. Persino la nebbia scappò a gambe levate e tutti cominciarono a vederci più chiaro. I cuccioli si avvicinarono più leggeri di farfalle. Parlò anche il capo branco ma questa volta lo fece dopo aver assaggiato mezza ciliegia. Certo aveva uno strano sapore ma questo non gli impedì di dire benvenuto nel branco piccolo lupo. Sono mamma di Michele che è un bambino di otto anni, un bambino con autismo. Per noi il primo periodo è stato proprio quello della grande incertezza e dei grandi dubbi legati al suo sviluppo. Fin dai primi mesi di vita Michele presentava uno sviluppo diverso rispetto agli altri bambini. Un bambino molto passivo che non reagiva ai nostri stimoli, non ci guardava e con un linguaggio non arrivava e quindi abbiamo cominciato ad avere una grande preoccupazione rispetto al suo sviluppo. Per noi questo corrisponde al periodo della nebbia che viene raccontata nel libro di Martino piccolo lupo proprio perché la nebbia è qualcosa che che crea grande smarrimento e grande incertezza e quindi abbiamo vissuto i primi due anni circa un po' avvolti in questa nebbia e in in questa grande incertezza. Martino piccolo lupo è una metafora, è una grande metafora per uno scrittore, quindi per me in questo caso, mettere in metafora qualcosa di complicato, di complesso come l'autismo senza banalizzare il tema è stata veramente una sfida perché a differenza di altri testi che ho scritto questo è nato da un focus group nel quale un genitore ha raccontato della sua vita, un pedagogista ha raccontato del suo mestiere e il tutto doveva essere reso anche fedelmente rispetto alla realtà dell'autismo, quindi uno dei rischi era di creare un happy end solo perché si parla di un tema complicato quindi col protagonista che miracolosamente guarisce e questo sarebbe stato poco rispettoso per chi vive questa realtà tutti i giorni. Un altro rischio sarebbe stato non essere fedele alla reale natura di questo disturbo che è un disturbo complesso che tocca vari ambiti della vita di un bambino. L'autismo è un disturbo piuttosto diffuso che tocca un bambino su 160, secondo alcuni un bambino su 100, quindi è veramente un disturbo dello sviluppo che è molto presente nella nostra società, nei nostri bambini, nei nostri genitori. Le caratteristiche dell'autismo si ritrovano all'interno dei manuali diagnostici, che sono il DSM-5, che sono l'ICD-10. Però, per riassumerli, le persone con autismo hanno delle difficoltà nell'aspetto della relazione sociale con gli altri, della comunicazione, non solo nello sviluppo del linguaggio ma anche nel come utilizzo il linguaggio per comunicare con gli altri, non solo quello verbale ma anche quello non verbale. Inoltre, spesso i bambini con autismo hanno delle difficoltà sensoriali che fanno sì che il mondo, secondo la loro percezione, è diverso da quello che magari percepiamo noi e anche degli interessi ristretti, ripetitivi. Se mettiamo insieme tutte queste cose qua, i problemi a relazionare con gli altri, le difficoltà a comunicare e a capire quelle che gli altri mi dicono, una visione sensoriale del mondo differente, degli interessi ristretti, vediamo come tutto questo comporta da un lato delle stranezze nel comportamento, delle differenze rispetto agli altri bambini e dall'altra parte anche delle differenze nell'apprendimento. Quando il lupo, il piccolo lupo, alza la testa e tutti lo vedono, tutti pensano che lui sta guardando la luna. Nessuno si accorge che in realtà lui sta guardando le ciliegie perché il gesto che fa è stato interpretato. E questo nell'autismo è un po', accomuna un po' tutti la difficoltà a fare la diagnosi precoce. Questo passaggio, per esempio, rappresenta proprio questo, il fatto di vedere una cosa ma non ancora di scorgere cosa in realtà questo comportamento nasconde. Da lì anche l'idea, per esempio, di usare la nebbia come metafora della conoscenza. Tant'è che la mamma, per esempio, la luna che conosceva non aveva bisogno di vederla quando c'era la nebbia per sapere che era splendida. Ma il bambino nato in una notte di nebbia ha dovuto conoscerlo ad agio ad agio, così come ha dovuto conoscerlo ad agio ad agio anche tutti gli altri. La nebbia di cui si parla nel libro di Martino Piccolo Lupo ricorda, nella nostra famiglia ricorda un po' i primi anni di vita in cui abbiamo avuto Michele con noi. I suoi primi anni di vita sono stati appunto contrassegnati dai dubbi rispetto allo suo sviluppo. Michele si sviluppava in maniera particolare, in maniera diversa rispetto agli altri bambini e ci siamo resi conto pian piano che era diverso rispetto agli altri. Quindi per noi era difficile anche un po' capire come riuscire a funzionare con Michele, a far funzionare la nostra famiglia con lui. Quindi abbiamo un po' vissuto per i primi due anni in questa nebulosa, non sapendo cosa succedeva. Gli specialisti ci dicevano che Michele aveva un ritardo ma che avrebbe recuperato, quindi abbiamo cercato di tranquillizzarci. Invece poi col tempo abbiamo visto che queste difficoltà rimanevano e quindi siamo rimasti abbastanza lungo in una situazione di stallo, proprio di nebbia, di grande preoccupazione e di incertezza. Martino Piccolo Lupo è un albo illustrato ed è stato dedicato da Cartusia a tutti i bambini, nessuno escluso. Noi ormai da 30 anni lavoriamo perché i bambini riescano a cogliere il mondo che li circonda. Da più di 30 anni pensiamo che ai bambini si possono raccontare cose difficili, complicate. E devo dire che Martino Piccolo Lupo rientra un po' in questi obiettivi, in questa voglia di metterci in gioco. Da molto tempo volevamo affrontare, mi interessava affrontare il tema dell'autismo, un tema difficile e delicato. E questo proprio è stato possibile da un incontro, è stato un incontro speciale, un bellissimo incontro con la Fondazione Ares che si occupa di autismo. Gli abbiamo proposto di inserirlo nella nostra collana di storie al quadrato. È una collana appunto di albi illustrati rivolte ai più piccoli. Quindi la scelta narrativa è quella di usare spesso gli animali come un elemento, un filo conduttore. E da subito abbiamo pensato al lupo. Perché il lupo? Perché il lupo, proprio come l'autismo, è un po' soggetto stereotipi. Il lupo piccolo fa tenerezza, ma fa anche paura pensando che diventa grande. E questo è un grande stereotipo legato all'autismo. Perché si pensa, purtroppo, ancora oggi, si potrebbe pensare che l'autismo è causato anche da cattive interazioni con i genitori. Mentre il lupo, in realtà, è un animale che ha uno svezzamento molto lungo, molto amorevole rispetto ai cuccioli. Quindi la scelta del lupo ci è sembrata da subito rappresentare bene il tema dell'autismo. Perché il lupo, in fondo, permette di parlare di ambiti molto vicini alla natura del disturbo autistico. Che sono la comunicazione, quindi abbiamo introdotto come metafora l'ululato. L'interazione sociale, quindi abbiamo introdotto come metafora della società il branco. Gli interessi ripetitivi, ristretti, quindi abbiamo introdotto come metafora la ciliegia. E tutte queste metafore, in realtà, permettono al docente di poter agganciarsi a una realtà molto vicina a quella dell'autismo per poi, eventualmente, approfondire il tema o parlare di questo protagonista, quindi un piccolo lupo, Martino appunto, per parlare in realtà di tematiche come l'inclusione scolastica. Il racconto di Martino, piccolo lupo, è stata una storia per i bambini molto emozionante. Ha stimolato la loro curiosità, ha stimolato la voglia di provare a mettersi nei panni degli altri. Per noi insegnanti, invece, è stato uno spunto di riflessione, di verifica, del nostro modo di lavorare, del nostro percorso educativo, proprio nell'ottica di una didattica inclusiva di cui tanto si parla in questi anni. Nella scuola dell'infanzia abbiamo letto questo libro ed è stata un'esperienza bellissima. I bambini sono rimasti a bocca aperta perché la storia per loro era nuova. Hanno percepito tutto quello che il piccolo lupo sentiva e hanno vissuto con loro la paura, la gioia, la disperazione, l'incredulità e il sentimento dell'amicizia. È stato veramente bello per noi condividere e sentire l'emozione dei bambini. Nella storia, lo avete sentito, alla fine il piccolo lupo è stato incluso nel branco, ma non perché è diventato come gli altri, ma perché gli altri, in fondo, hanno fatto un passo verso di lui e hanno capito che l'inclusione è il prodotto anche di un processo culturale che ci fa guardare le altre persone come degli individui unici, singoli, e non come persone che devono fare come gli altri, che devono integrarsi in una scuola solo se hanno un determinato tipo di profilo. Il libro nasce da un lavoro a monte molto grande, molto importante, che noi chiamiamo quello di un focus group. Siamo partiti con questa avventura. Ci siamo seduti, come si dice, intorno a un tavolo perché il focus group è fatto proprio di il gruppo di lavoro di Cartusia, quindi della redazione, della nostra struttura. è stato, coinvolge gli autori, oltre a Jonathan Bernasconi, che in questo caso aveva questo doppio ruolo di essere educatore, esperto quindi sul tema dell'autismo, e dall'altra parte un grande scrittore per ragazzi, quindi è stato un incontro anche in questo felice. L'illustrazione, che è arrivata dopo, quindi il progetto che poi abbiamo fatto è sul lavoro con Simona Mulazzani, che è un'altra grande, calcolate che è veramente una delle più importanti illustratrici italiane. Poi c'era Nicola Rudelli, educatore e pedagogista, una figura fondamentale, quella della mamma, Barbara Bernasconi, e poi Rosi Pozzi, che è stata, diciamo, per noi anche un elemento importante perché è stata una di quelle che ha creduto subito al progetto. Poi Marianna Turchi e Anna Veronelli del gruppo di lavoro di Cartusia, oltre a me. Quindi è stato un gruppo numeroso. La cosa importante è quella di, nel focus group, che nascono da domande, impressioni, i vissuti. Come mamma ho potuto dare la mia testimonianza di cosa vuol dire avere un bambino con questo disturbo e di cosa si vive soprattutto il primo periodo della sua vita. Nel progetto Martino Piccolo Lupo ho avuto il ruolo e il compito di fare i portavoce di quello che sono gli aspetti un po' tecnici e scientifici legati ai disturbi dello spettro autistico. Quindi il mio compito è stato proprio quello di portare tutti questi elementi all'interno del focus group per far sì che quello che veniva inserito nel libro fosse in linea con quello che sappiamo oggi su questo disturbo. Il testo è arricchito dalle illustrazioni, ma le illustrazioni devono raccontare anche altro. E su questo devo dire che Simona è stata bravissima a farlo. Perché questa è una storia che in qualche modo insegna, questa è una storia che racconta e quindi la forza dell'immagine è fondamentale. Ha costruito tutto intorno, e se lo osserverete, tutto intorno al ciliegio. Io credo che sia stato un lavoro di grande sintonia e i risultati di questi progetti e la forza di queste storie, perché calcolate che le storie possono davvero cambiare il mondo e la forza di una storia, di un albero illustrato, può essere straordinaria. Questi libri nascono con grandi scrittori, grandi autori, grandi illustratori, quindi è la parte creativa che poi fa la differenza. In questo caso, Jonathan, dopo tutto questo percorso in cui entrava e usciva nel suo ruolo di autore e di educatore, ha dato forma a Martino ed è stato quello il punto fondamentale. Martino è un piccolo lupo ed è un piccolo lupo che non ulula la luna e quindi nella sua diversità c'è dentro tutta la storia, c'è dentro tutta la metafora, c'è dentro tutta la problematica della diversità. Nel libro si cerca di parlare con un linguaggio semplice e accessibile ai bambini di queste difficoltà qua. Quindi non vengono trattate direttamente, anche perché i bambini dell'età dell'asilo e della prima elementare non possono capire il concetto di autismo, di disturbo dello spettro autistico, ma piuttosto lo scopo del libro diventa quello di spiegar loro il perché il bambino si comporta in determinate maniere nel momento in cui loro stessi portano le domande. Quindi aprire una porta, far sì che parlare di autismo non è un tabù, parlare di autismo non è qualcosa di proibito, i bambini possono chiedere e sta a noi dare loro delle risposte affinché possano capire perché il determinato bambino si comporta in una certa maniera. E Martino Piccolo Lupo ha proprio lo scopo di mettere insieme questi tasselli, di inserirli all'interno di una storia e di permettere al docente o al genitore che legge la storia di avere degli appigli. Intorno ai tre anni abbiamo avuto finalmente delle risposte, ci siamo rivolti ad altri specialisti che ci hanno detto che Michele presentava dei tratti autistici e da lì abbiamo cominciato a avere delle risposte e soprattutto abbiamo cominciato a capire perché Michele reagiva in certi modi. finalmente qualcuno ha cominciato ad aiutarci e è venuto a casa a spiegarci cosa voleva dire avere un disturbo autistico e da lì abbiamo iniziato ad avere una migliore comunicazione con Michele, riuscire un po' a attirare la sua attenzione, riuscire a fargli capire il vostro modo di comunicare e quindi entrare in contatto con lui e da lì un po' appunto la nebbia si è diradata e siamo arrivati a conoscere meglio nostro figlio e ad avere un migliore contatto con lui. I bambini con autismo e anche il piccolo lupo non hanno bisogno della commiserazione degli altri ma hanno bisogno di comprensione. Per loro natura per comprensione si intende che funzionano in modo diverso, in modo diverso nel processare delle informazioni, nel gestire il tempo, nel comunicare. In fondo le grandi metafore che sono trattate in questo libro servono in realtà per parlare di inclusione. Come il lupo non è un animale stanziale ma si muove su vasti territori, così Martino è partito dall'Istituto Como Borgo Vigo ed ha cercato di raggiungere le scuole della nostra provincia. Si trattava di un progetto direttamente spendibile e utilizzabile nelle classi dai nostri docenti ed è questa la sua forza e il suo valore. Abbiamo presentato quindi questo testo all'interno di un convegno che è stato proposto ai docenti della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie del nostro territorio, convegno nel quale sono stati offerti anche spunti di riflessione sulla tematica dell'autismo. Crediamo però che la forza e il valore di questo testo e di questo progetto stia non soltanto nell'affrontare il tema dell'autismo ma più in generale il tema della diversità. Un tema che a noi è tanto caro e un tema sul quale lavoriamo molto e che offre appunto agli insegnanti occasioni di lavoro concreto con i bambini. Il testo in particolare è un testo direttamente spendibile e utilizzabile dalle insegnanti a vari livelli. Offre molti spunti di lavoro sia a un livello diciamo superficiale se vogliamo, quindi semplice lettura che può essere fatta nelle classi con i bambini, sia a livello sempre più profondo sfruttando i richiami, le metafore e il valore simbolico che il testo comunque possiede, sia rispetto alla competenza che gli insegnanti possono avere, quindi affrontato proprio a livelli diversi. Il tipo di testo permette di agganciarsi veramente all'autismo, tant'è che ci sono dei passaggi molto precisi, ad esempio senti il sapore delle ciliegie scoppiare in bocca per chi conosce un po' l'autismo sa che i bambini con autismo hanno problemi spesso sensoriali di ipo o iper sensibilità e quindi da questa frase per esempio il docente potrebbe anche informarsi e parlare o far capire ai compagni di classe come mai il compagno magari rispetto agli altri potrebbe non sentire il freddo oppure non voler usare un certo tipo di materiale. E qui si potrebbe parlare di tante altre metafore come l'oca che nonostante l'apparente ingenuità in realtà è stata la prima, il primo protagonista che è andato oltre le ciliegie. Le ciliegie come metafora di andare oltre l'aspetto esteriore, la cosa che colpisce. La ciliegia è un po' anomala, un lupo con una ciliegia sul naso ovviamente è un po' anomalo, andare oltre significa andare oltre quella peculiarità. Quindi l'oca nel caso della storia dietro un'apparente ingenuità in realtà si è dimostrata più saggia del capobranco che si credeva il leader del gruppo tanto da determinare chi può entrare e chi può uscire dal branco. È stata più acuta della volpe e non è un caso che ho messo la volpe che di solito rappresenta la furbizia. In realtà la volpe ha creduto di vedere un'altra oca guardando le ciliegie perché l'ha creduto, perché ha guardato solo un aspetto, la ciliegia appunto, senza vedere che dietro questa ciliegia c'era un lupo e non un'oca come quella che aveva incontrato pochi minuti prima. Il percorso didattico che è stato programmato sulla storia si è sviluppato in un tempo piuttosto ampio e il percorso si è rivelato molto articolato. Siamo partiti dalla lettura e dalla osservazione delle belle immagini del testo per poi suddividere il racconto nelle parti costitutive del testo narrativo, proporre a riguardo degli esercizi di comprensione e degli esercizi di analisi dei personaggi. I bambini hanno dovuto, in base a degli input che venivano offerti dall'insegnante, definire i vari personaggi del racconto in base a com'è e a cosa fa. ne è risultato un lavoro veramente molto complesso, molto ricco, che ha arricchito anche dal punto di vista lessicale i bambini e ha offerto ulteriori spunti di lavoro anche per l'insegnante. Nella scuola dell'infanzia è stato molto bello leggere ai bambini. Il nostro percorso diciamo che si è limitato alla lettura e alla drammatizzazione della storia. Vale a dire che ogni bimbo interpretava Martino, piccolo lupo, piuttosto che la volpe, piuttosto che l'oca. Alcuni la nebbia, la nebbia l'abbiamo fatta con un telo, un telo molto leggero che copriva tutto. E ci siamo divertiti, ci siamo divertiti in questo modo. I piccini sono arrivati a capire e a interiorizzare che è molto bello essere come si è. Ognuno è ricco di risorse per come è. Ciascuno ha dentro un mondo di emozioni, di sensazioni da condividere con gli altri. Lo stare insieme permette di aprirsi agli altri e di accettare quello che gli altri possono regalare a noi. Vorrei però leggervi con le parole dei bambini il messaggio che secondo loro questa storia ci offre. Allora loro dicono, spesso le storie di animali insegnano delle verità che riguardano anche il mondo degli umani. Martino è molto diverso dagli altri. Per questo motivo il branco non lo accetta, anzi lo isola. Il lupetto non sa comunicare con i suoi compagni, ha abitudini molto differenti dalle loro. Può capitare anche ad un bambino di non sapere o di non poter fare quello che fanno gli altri bambini. Non è facile capire chi è diverso da noi, ma rispettare e accogliere sono due comportamenti che non dobbiamo mai dimenticare. Anche per quanto riguarda noi, nella lettura che abbiamo fatto in maniera corale con quasi tutte e tre le sezioni al completo, ha coinvolto tutti i bambini che si sono messi a ululare come il piccolo lupo, che hanno gioito con loro, con lui e con la mamma, quando si sono riabbracciati e quando il capobranco ha detto adesso fai parte del branco. È stata un'emozione che hanno sentito i bambini e abbiamo sentito noi. Questo libro ha dato tanto ai piccolini e tanto alle insegnanti. Grazie a questo libro abbiamo un po' imparato sia io che mio marito a parlare ancora di più di Michele e della nostra vita con lui. E quindi questo è un modo proprio per aprirci, per aprirci ad altre famiglie, altre esperienze di famiglie con bambini con autismo. E questo ne aiuta sempre di più a elaborare un po' il vissuto di noi genitori e a renderci meno isolati, a imparare anche a condividere con gli altri questa esperienza. E anche questo permette agli altri poi di essere più vicini a noi, di capirci meglio e quindi di essere meno timorosi nell'entrare in contatto sia con noi che con Michele. E quindi è un'esperienza veramente positiva quella di poter usare un libro che usa un linguaggio molto semplice e comprensibile sia per adulti che per bambini per parlare di un disturbo che non è sempre così facile da presentare e da raccontare agli altri. La fine della storia in fondo nasconde un po' questa mezza ciliegia che rappresenta uno sforzo va chiesto ovviamente al bambino autistico, al piccolo lupo, uno sforzo nel senso commisurato alle sue capacità e alla nostra capacità di insegnare, ma uno sforzo deve essere fatto anche da noi nella misura in cui capiamo come funziona e ci adattiamo la crescita di un piccolo lupo non è farlo diventare come tutti gli altri. dopo che abbiamo impostato tutto il progetto volevamo però aveva la forza di diventare uno strumento di comunicazione di campagna a scuola quindi non solo un bel libro per le librerie perché questo era nato con l'idea di diventare campagna informativa e di sensibilizzazione di accettazione della diversità e sull'autismo c'è moltissimo da fare. quindi noi ci siamo rivolti ai club Kivanis che sapevamo molto sensibili alle tematiche legate ai bambini e abbiamo trovato devo dirvi in Giuseppe Bertini del club Kivanis di Varese il primo grande nostro partner interlocutore che ci ha creduto tantissimo. comunque quando Patrizia nel 2015 mi parlò del progetto Martino il Kivanis fu subito interessato all'iniziativa perché vide in Martino la pratica attività di volontariato che svolge dal 1915 quando fu fondata Detroit nel 2015 festeggiavamo i cento anni di attività e il primo service che Kivanis fece nel 1915 fu quello di adottare un bambino di una famiglia disagiata e quel bambino fu chiamato Kivanis noi nel 2015 pensiamo di adottare Martino piccolo lupo e di mandarlo nelle scuole a parlare della cura della prima infanzia a parlare della inclusione a farsi leggere ecco questi queste tre attività sono fondamentali per i soci e i volontari di Kivanis Kivanis nel giro di un anno dedica circa 2 milioni di ore con i suoi 600.000 soci nel mondo al volontariato e quindi ci pare bellissimo far vivere Martino nelle scuole proprio per questa diversità che è fondamentale nella visione di una comunità che nel futuro possa prendersi sempre cura dei bambini e essere a misura dei bambini quindi questo è l'obiettivo che ci siamo posti e abbiamo sperimentato in questi due anni a Varese a Como in Cantonticino e a Pavia come Martino ha preso diciamo così vita e si è attivato nelle scuole suscitando la curiosità dei bambini e portando a momenti di discussione di elaborazione perché l'interattività dei bambini è considerata fondamentale uno degli obiettivi che ci siamo posti infatti è quello di non fermarsi alla semplice lettura alla semplice discussione ma a momenti successivi di elaborazione che possano poi portare nelle scuole a esempi e esperienze da riportare nella giornata mondiale dell'autismo che si svolge ogni anno per trovare poi le migliori pratiche da scambiare e da condividere infatti noi Martino l'abbiamo chiamato ambasciatore di Kiwanis nelle scuole e nel mondo perché riporta i valori fondamentali della vita cioè il rispetto della dignità umana e l'altra che noi definiamo regola d'oro farà agli altri ciò che vogliamo che gli altri facciano a te quindi ecco il discorso di fondo è questo che permette già ai bambini di confrontarsi con la convivenza e quindi Martino è un esempio di amore amiamo Martino condividiamo Martino e viviamo Martino questi sono i tre momenti che ci poniamo come proprio fondamento del nostro esperimento del nostro progetto e siamo molto felici di poter verificare nel tempo l'efficacia del messaggio nei confronti dei nostri bambini quindi con il Kiwanis Italia San Marino c'è l'occasione di trasformarlo in un progetto di rete a livello nazionale abbiamo avuto il supporto del MIUR di molte direzioni didattiche che hanno creduto in questo progetto perché è stato testato è stato verificato la validità e l'impatto con i bambini sono Lucio Moderato direttore dei servizi per l'autismo di Fondazione Sacca Famiglia docente anche all'Università Cattolica e direttore scientifico di numerose associazioni cooperative mi occupo di autismo da 40 anni e quindi quando è stata proposta l'edizione di Martino Piccolo Lupo sono stato ben felice di promuovere il prodotto e anche di fare la prefazione al libro stesso l'autismo è una condizione molto complessa dello sviluppo può diventare difficile se non si sa dove mettere le mani l'autismo è qualcosa di strano, di molto particolare e quindi c'è bisogno di molta conoscenza Martino Piccolo Lupo è un elemento forte per condividere una conoscenza che deve essere prima culturale e poi tecnologica perché se noi non abbiamo la cultura dell'accoglienza non riusciamo a produrre nessun tipo di abilitazione ed educazione a favore delle persone con autismo io credo che se riusciamo e mi auguro di sì a cambiare la prospettiva dell'accettazione a togliere un po' questa nebbia che avvolge le famiglie, i bambini, i vissuti di tanti bambini autistici quindi fargli vedere chi è veramente Martino credo che abbiamo ottenuto uno straordinario obiettivo a togliere un po' questa notizia a togliere un po' questa notizia insieme a tutti l'att Isabella Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.